Di Maia, a proposito di Napoli, ha parlato sulla Napoli la notizia del weekend è che sono state assegnate le università del 2019. Teme un mangereccio come si sta per fare, credo, sul Roma 2024? Secondo me dipende sempre da chi gestisce questi processi. Se a gestire i processi delle Olimpiadi a Roma o delle università sono coloro che hanno già, per esempio, gestito i mondiali di nuoto, se ci ricordiamo a Roma e con tutta la speculazione che c'è stata, che è stata solo una grande opera di speculazione, io sono molto preoccupato. Fermo restando che miliardi di euro oggi dovrebbero andare in, banalmente, buche da tappare nelle strade, più mezzi pubblici, asili nido, scuole, quindi edilizia scolastica. Non mi preoccupa il fatto delle Olimpiadi, a me preoccupa il fatto che ci sia una classe politica che pensa alle Olimpiadi invece di sistemare le strade o di dare una dignità alle scuole materne o alle scuole elementari di queste città.